Nuovo ospedale, commissario di ricerca e esperti in gara d'appalto e diritto dei contratti emanati due incarichi. L'osservatore civico si è proposto di seguire tutte le varie fasi che dovranno portare alla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Tra queste si prende atto che il commissario straordinario, ingegnere Guido Monteforte Specchi, ha emanato due manifestazioni di interesse. Una per l'individuazione di un esperto di comprovata qualificazione professionale, a cui affidare l'incarico di consulenza specialistica in materia giuridica, con particolare riferimento al diritto amministrativo e al diritto dei contratti pubblici e di supporto allo staff della struttura commissariale straordinaria. L'altra per l'individuazione di un esperto di comprovata qualificazione professionale, a cui affidare l'incarico di consulenza specialistica tecnica, con particolare riferimento alla materia dei lavori pubblici e delle gare d'appalto e di supporto allo staff della struttura commissariale straordinaria. Il compenso stabilito per l'incarico è quantificato in 48.000 euro annui omnicomprensivi per ciascun esperto e si intende all'ordine degli oneri fiscali e previdenziali.